Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi parleremo di disequazioni con valore assoluto. Ma prima di vedere passo passo la risoluzione di un esercizio, vi ricordo la definizione di valore assoluto di una funzione. Se f di x è l'espressione di una generica funzione, abbiamo che il suo valore assoluto è esattamente uguale al suo argomento se f di x è maggiore o uguale a 0, oppure è uguale al suo opposto se f di x è minore di 0. Benissimo, fatto questo appunto andiamo a risolvere un esercizio. Questa disequazione contiene un valore assoluto. Sappiamo che per risolverla dobbiamo innanzitutto tener conto della definizione del valore assoluto, che è una funzione definita a tratti. Poniamo l'argomento maggiore o uguale a 0 e andiamo a risolvere rispetto a x. Dunque, quando x è maggiore o uguale a 2, l'argomento è maggiore o uguale a 0 e il valore assoluto coincide con il suo argomento. Quando invece x è minore di 2, l'argomento è negativo, dunque il valore assoluto è uguale all'opposto del suo argomento. Benissimo, a questo punto abbiamo che quando x è maggiore o uguale a 2, la disequazione assume questa forma. Quando x è minore di 2, la disequazione assume quest'altra forma. Abbiamo dunque due sistemi da risolvere, A e B. L'insieme delle soluzioni della disequazione iniziale corrisponde all'unione degli insiemi delle soluzioni di questi due sistemi. Cominciamo a risolvere il primo. Diamo un nome alle due disequazioni del sistema. Scriviamo l'insieme delle soluzioni di A1, poi risolviamo A2. Portiamo le x a sinistra e i numeri a destra. Ed ecco la soluzione x minore di 5. Scriviamo l'insieme delle soluzioni di A2. Quindi l'insieme delle soluzioni del primo sistema corrisponde all'intersezione degli insiemi delle soluzioni di A1 e di A2. Per determinarlo usiamo uno schema grafico. Rappresentiamo le soluzioni di A1, poi le soluzioni di A2. Infine evidenziamo le soluzioni del sistema A. Quindi x è compreso tra 2 incluso e 5 escluso. Benissimo. Abbiamo quindi le soluzioni del sistema A. Passiamo ora a B. Anche stavolta diamo un nome alle due disequazioni. Scriviamo l'insieme delle soluzioni di B1, poi andiamo a risolvere B2. Portiamo le x a sinistra e i numeri a destra, calcoliamo, dividiamo per meno 3 ricordandoci di cambiare il verso, ed ecco la soluzione. Scriviamo l'insieme delle soluzioni di B2 e così l'insieme delle soluzioni del secondo sistema corrisponde all'intersezione degli insieme delle soluzioni di B1 e di B2. Al solito per determinarlo usiamo uno schema grafico. Andiamo a rappresentare le soluzioni di B1 e poi le soluzioni di B2. Infine evidenziamo le soluzioni dell'intero sistema B. Vediamo che x è compreso tra 1 e 2, estremi esclusi. Ora abbiamo le soluzioni dei due sistemi, per cui possiamo determinare dalla loro unione le soluzioni della disequazione data. Anche in questo caso ci serviamo di uno schema grafico e andiamo a rappresentare le soluzioni del sistema A e poi le soluzioni del sistema B. L'unione di questi due insiemi corrisponde all'intervallo tra 1 e 5 estremi esclusi. Abbiamo così trovato le soluzioni della disequazione iniziale. Perfetto, questo tutorial termina qui. Vi invito a condividerlo con i vostri amici tramite social, a lasciare il pollice all'insù se vi è piaciuto e un commento se avete ancora dubbi o suggerimenti in merito. Infine per rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti iscrivetevi al canale. A questo punto io vi ringrazio e vi auguro un buono studio. Ciao!